Ciao a tutti, in questo momento di contestazioni e crisi ecco i ringraziamenti di Paolo. Un abbraccio di cuore a tutti voi che per scelta o per caso siete entrati nella mia vita. Un saluto altrettanto frettuloso a chi si è soffermato solo un po' con distratto interesse. Un abbraccio esageratamente grande a chi invece l'ha attraversata con immenso affetto soffermandosi e raccogliere il meglio di me. Ciao e ricordate che Paolo è idraulico ed elettricista chiamatelo.